Buongiorno, eccellentissimo signor Presidente, a nome dell'Associazione Giovani Amministrativisti che in questa occasione mi onoro di rappresentare, del nostro Presidente, l'Avvocato Clarizia, Paolo, del Comitato Territoriale di Bari, porgo il saluto a questa stise esprimendo un sentito ringraziamento per aver concesso la partecipazione all'evento odierno, che segno e conferma della perdurante volontà delle componenti istituzionali di codesso settore della giustizia, di intrattenere un dialogo forte e sentito con il mondo dei giovani professionisti del settore. A distanza di un anno dall'ultimo bilancio tracciato sul nostro mondo professionale, la realtà appare sensibilmente modificata, evidenti infatti sono i segnali di innovazione che sono stati determinati dall'introduzione del rito cosiddetto speciale, l'avevamo citato prima, di terzo livello in materia di appalti, delle modifiche al codice dell'amministrazione digitale, dalle nuove previsioni in materia di società pubblica, come anche in materia di scia e di silenzio assenso, come non ricordare l'avvento del PAT, del processo telematico amministrativo ed il connesso obbligo di deposito telematico degli atti, che ha già occasionato in un'ottica di modernizzazione del processo l'insorgere di una giurisprudenza amministrativa vivace ma soprattutto vigile, vigile sulle problematiche connesse all'operatività dello stesso di pari passo anche con le riforme in materia di sinteticità degli atti difensivi. Temi su cui la nostra associazione ha avuto modo di riflettere, affrontando anche dal punto di vista sostanziale, nonché processuale, quelli che sono gli effetti di eventuali vicende patologiche che potevano insorgere nell'ambito dell'applicazione delle discipline sia normative che regolamentari nei rapporti tra pubblico e privato. I problemi sul tavolo sono tanti da affrontare, le risposte non sono sempre a portata di mano, significativa anche la questione del calo del contenzioso che è ancora uno spettro incombente di un fenomeno, ahimè, irrefrenabile. Ma la giustizia, come diceva una persona sicuramente più saggia di me, nei confronti dell'individuo fosse anche il più umile e tutto, il resto viene dopo. La tutela giudiziaria per svolgere appena la sua funzionalità deve essere effettiva. E quindi questa è la missione del giudice amministrativo, che non è solamente il giudice della macroeconomia, è anche il giudice dell'immigrazione, è anche il giudice della regolazione pubblica, dei concorsi pubblici, della gestione della tutela del territorio, della sanità, di tanto altro ancora. Ma è soprattutto il custode delle garanzie apprestate nei confronti di un corretto esercizio del potere pubblico e del rispetto delle regole, in una società che è in continuo divenire e altrettanto velocemente l'evolversi del concetto stesso di bene della vita. Alla luce di questo credo che appaia essenziale mantenere forte comunque il dialogo e il confronto sulle problematiche emergenti. Noi continueremo ad esserci, verso un orizzonte di sviluppo e anche di crescita, con responsabilità e senso di caparbietà. Quindi alla fine cosa dire? Non resta che augurarci buon lavoro reciprocamente e un saluto a tutti. Grazie.